Il parco si trova nella parte più alta di Larino, da cui si può osservare un panorama suggestivo che abbraccia l'intero territorio. L'area intitolata Giovanni da Casalbore è stata interessata da un intervento di restyling con l'obiettivo di restituire alla comunità un luogo più vivibile e funzionale. Giochi per bambini, cura delle piante, nuove luci e altri interventi di manutenzione. Un progetto che si inserisce nel piano di miglioramento delle aree verdi pubbliche e che ha visto la collaborazione dei cittadini come Alfredo, Antonio e Salvo che insieme ad altri hanno curato come volontari il parco con impegno e dedizione. L'iniziativa è stata coordinata dagli assessori Michele Palmieri e Miriam Petriella. Non è in realtà un nuovo parco, è la riapertura di questo parco in via da Casalbore che abbiamo deciso e reso di nuovo fruibile ai cittadini perché era in completo degrado e abbandono. Siccome è una zona abbastanza centrale e ha una vista stupenda abbiamo deciso di fare qui l'installazione di tutti in una serie di giochini nuovi e di renderlo fruibile anche dal punto di vista delle passeggiate con i cani perché abbiamo installato anche i cestini per le deiezioni canine sperando che i cittadini possano aver cura e rispettare questo ambiente. Un'occasione è quella del simbolico taglio del nastro e della benedizione per consegnare anche il nuovo scuolabus e rinnovare la festa dell'albero con gli alunni dell'Istituto Comprensivo, un momento di condivisione e di incontro sui temi dell'ambiente. La tutela ambientale, la messa a disposizione dei cittadini di spazi di vivibilità è un presupposto inerudibile di qualsiasi pubblica amministrazione non può non esserlo anche della nostra regione.